Un bacio, va bene, parliamo dopo, parliamo dopo, almeno su 9 puntate, un pezzettino di lingua. Basta! Solo la lingua senza le labbra. Ma che schifo! Ancora pezzo! Allora, comunque, tutte le email che ci sono arrivate, quindi adesso facciamo un numero a caso delle email che ci sono arrivate, per vedere se... Non ho capito un caso, comunque va bene, il numero delle email... Vai, regia, fai il numero. Pronto? Pronto? Pronto, sei in linea? Sto in linea? Ma che linea è in linea? Penso 200 kg. Ma va! Ma Gianpiero, caleati! Ancora! 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 E notte alte sono sveglio, me so mangiato pasta e aglio. Ma che schifo! Ma Gianpiero, scusa, sono settimane che ci perseguiti, ma tu navighi col pc? No, col pc. Ma che schifo, Gianpiero! Accendi il televisore al numero 6, taglia 1, ci siamo noi, ci vedi? Un attimo, eh? Ecco. Prova. Mi portarci su, e chi sono questi due? Sio Fessere e Morticia Adas! Oh, oh! Basta, paro spiritoso! Ma sei da solo, chi c'è di conto? No, c'è solo di Abagnale, in Basca 3, di Capua in Dolce 1 e Panatta in Water 7. Panatta in Water 7? Perché? E' esperto dei servizi, lui. Ma no, è esperto! Ma no, è esperto! Ma no, è esperto! Poi c'è pure il fidanzato di Michelle. Chi c'è? Il fidanzato di Michelle Unziger. No, no, no! Federer, il tennista, chi è? E' scutato! Restelli! Ma dai! Non c'è uno senza due! Qual è il fidanzato? Passacelo subito, dai! Io mi strappazzo la Michelle! Topoggio! Mi tremano i baffi, mi tremano dall'emozione! Correva voce, i gossip davano questa storia tra le topoggio. Ma cosa c'entra un topolino come te e una svizzera come lei? Noi abbiamo in comune l'amore per il formaggio svizzero, i baffi... Ma che baffi? Si è appena rasata! E le dimensioni del cervello! Non ce l'ha così croco, dai, non è... Aspettila, eh! Basta! Ripassoci Giampiero, dai! Giampiero! Giampiero! Dobbiamo salutarti! Oh, ciao Pimpio! Mi dico! Oh, sentici! Sentiamo presto, eh! Grandissimo! Simpatico volista! Grande! Ciao, ciao, ciao! Ciao, grande! Ciao, ciao, ciao! Ma baffanculo! Sei simpatico come lui! Ma non è possibile! Ma sei il collegato, Giampiero! Ah, stavo in linea? Scusa! Vabbè! Puoi salutare anche Michelle! Ciao Michelle! Grandissima! Mimica! Senti, l'ho visto in Germania anche il tuo programma... Do Beats for Scheisse! Come si chiama? Come si chiama questo programma? Che programma fai in Germania? Si chiama Dois San Superstam! Eh, Dois San Superstam! Fantastico! Bellissimo! Anche lì, grande successo! Mimica! Ciao, ciao! Ciao, grandissima! Ciao, ciao, ciao! Ma baffanculo, va! Tu e il muro del Berlino! Nicola Salino! Ciao! Ciao, Mimico! Ciao, ciao, Nicola! Ciao, Mimico! Tutte le mattine su Radio DJ! Pensa che schifo, facciamo ogni settimana a film! Con questo simpatico di Linus! Sai che c'era Linus? Qualcuno ha visto Linus in sala?